Buongiorno, oggi vi voglio raccontare il prossimo libro in lettura. Si tratta del libro Castelli di sabbia, edito dalla casa editrice Scritture e Scritture per la loro collana Voci Riscoperte. Castelli di sabbia di Alice e Claude Esquieu. Vi leggo il primo capitolo. La parola addio è sempre difficile e addirsi specialmente quando si emigra per diversi anni. Non è vero? Howard Barton fissava Margaret detta Maggie mentre le rivolgeva queste parole, ma Maggie continuava a guardare insistentemente il manico di ebano della teiera d'argento e vedeva che una delle piccole viti che le univano all'argento si è rallentata e non riusciva a vedere altro che quella vite. La parola addio non è mai piacevole. Maggie si meravigliava di saper controllare così bene la voce. Sono certa che questo viaggio all'estero ti farà molto piacere. Soggiunse poi freddamente. Il Sudafrica, o meglio la Rodese, deve essere una regione interessantissima. Riuscì a sorridere perché le donne detestano, al pari degli uomini, di dare segni di codardia e Maggie Carvel non era una codarda. E poi era irritata, molto irritata. Si rendeva conto che il giovane che aveva al suo fianco l'aveva trattata in modo vergognoso. Infatti Howard Burton, che stava per partire dall'Inghilterra lasciando la casa nel Kent dove era sempre vissuto con la madre, vedova non le aveva chiesto di finanziarsi e Maggie era completamente all'oscuro delle sue intenzioni. Eppure, per anni e anni, le aveva dimostrato il proprio amore per essenza parlarne e ora non le aveva rivolto. La domanda è fatidica e decisiva. Sì, credo che in Rodesea farò una discreta vita. Fanno molte battute di caccia alla selvaggina grossa e in fondo sono contento di andarmene dall'Inghilterra. Qui un uomo povero ha poche possibilità, poche speranze, bisogna avere denaro per riuscire a combinare qualcosa. Howard tese la mano attraverso la tavola da te. Era un giovanotto robusto e biondo dalle fattezze un po' rudi, il vero tipo del sasso, ne occhi verdi e le ali, lineamenti irrisoluti, mento pronunciato e spalle quadrate. Accanto a lui Maggie sembrava più esile, più alta di quanto non fosse. Come in confronto a lui, così il biondo e chiaro di carnato poteva sembrare bruna. In realtà non era né bruna né bionda. I capelli avevano riflessi di rame. Gli occhi erano color nocciola e la carnagione era molto chiara e ambrata. Indossava una gonna di lana blu e una camicetta di mussola bianca. Si era però appuntata sul petto una rosa rossa che aveva cominciato a reclinare il capo e ad appassire. Proprio come erano appassite le speranze di Maggie. Dunque addio e buona fortuna. Fu tutto quello che riuscì a dire mentre stringeva la mano del giovane, che aveva avuto un posto di primo piano nella sua vita. Non poteva dire altro perché doveva lottare con un nodo che le serrava la gola. E' un nodo tremendo, soffocante e dovette farsi violenza per frattenere le lacrime che Howard non doveva vedere. Eccolo qui. Prossimamente sul blog Septem Literary la recensione completa. A presto! Prossim